La birra di oggi è la famosa, direi ormai, All Day IPA di Founders. Vediamo subito la scheda tecnica di questa birra. Allora, il birrificio in questione è la Founders Brewery, questa è la All Day IPA. Come stile una session IPA, grado alcolico 4,7 gradi, quindi proprio nella fascia alta delle session. Prezzo, non ricordo con esattezza, l'ho acquistata al supermercato, poco più di un euro, ma mi spiace, ma non ricordo esattamente la cifra. Il bicchiere consigliato per questa birra è la Pinta e non si tratta di un primo assaggio. Allora, vediamo l'etichetta. Ho qui una bottiglia vuota che ho preso e poi vi spiego perché. L'etichetta, allora, la bottiglia ha il tappo con il logo Founders Brewery, l'anno di fondazione che è il 1997, un'etichetta piccolina superiore con lo stesso logo a colori e come sfondo un prato. Nella parte inferiore c'è appunto sempre il logo Founders, All Day IPA, una macchina che va a fare probabilmente una gita al lago. Session Ale, sul retro ci sono un po' di informazioni, 4 gradi e 7 e una piccola descrizione commerciale. Sulle birre commercializzate in Italia, e questa è una birra che trovate facilmente nella grande distribuzione, anche appunto al supermercato dove l'ho acquistata, per il mercato italiano vengono applicate delle etichette. In questo caso, vi faccio vedere, allora, questo dove è stata applicata un'etichetta. Sono etichette con informazioni accessoriche che per legge devono essere scritte sulle birre per quanto riguarda il mercato italiano. Però, se vi capita di avere birre importate o acquistate all'estero, spesso queste etichette mancano. In alcune birre che per esempio mi è capitato di importare dal Belgio, manca per esempio la data di scadenza. Tipicamente i rivenditori dovrebbero appunto, nel momento in cui la rivendono sul mercato italiano, applicare questi adesivi. Ovviamente in questo caso si tratta di grande distribuzione, quindi vengono applicati questi adesivi. Dove ci sono le informazioni su gli ingredienti, il grado alcolico, eccetera, chi ha importato questa birra e la data di scadenza. Una cosa che è bene precisare, questa birra che, devo dire, in America riscuote un grande successo e solo la All Day rappresenta, da alcuni dati che ho letto, più di un quarto del fatturato totale di questo birrificio perché è davvero il loro cavallo di battaglia. Su questa birra, per quanto riguarda il mercato italiano, c'è da spendere qualche parola perché essendo appunto distribuita dalla grande distribuzione, appunto, non sappiamo come viene conservata. Quindi potrebbe essere che arrivi tanto tempo dopo, motivo per cui appunto vi spiego perché ho staccato le etichette, o che non venga conservato nel migliore dei modi, quindi principalmente temperatura, esposizione alla luce solare e così via. Ora, non ho mai avuto il piacere di assaggiare questa birra negli Stati Uniti, ma leggendo commenti e recensioni di persone che l'hanno bevuta sia negli Stati Uniti sia quella acquistata nel supermercato in Italia sono, a quanto pare, cose abbastanza diverse. Altra piccola precisazione, appunto, questa etichetta che per legge viene applicata per appunto il mercato italiano copre un'informazione importantissima, soprattutto su birre che puntano tanto sui luppoli, perché copre la data di imbottigliamento. Allora, sulla data di imbottigliamento bisognerebbe spendere un po' di parole, perché ci sono birre che possono essere bevute anni dopo la data di imbottigliamento, birre che migliorano col tempo, da, mi viene in mente, Orval, per esempio, visto che ne abbiamo parlato nella puntata precedente, Orval invecchia e migliora o comunque cambia, c'è chi la preferisce vecchia, chi la preferisce giovane, ma comunque cambia, la possiamo bere anche 10 anni dopo la data di imbottigliamento, 20 anni dopo, ci sono l'Ambic che 20 anni dopo incominciano ad essere ancora più interessanti, e birre che invece vanno consumate subito. Le birre in generale, molto luppolate, quindi tutta la categoria IPA e APA, vanno bevute subito, non ci sono troppe storie, nel senso che più ci allontaniamo dalla data di imbottigliamento, peggio è. In questo caso, l'etichetta, che ripeto, deve essere messa per la legge italiana, copre un'informazione essenziale, che è la data di imbottigliamento. Questa birra è la stessa, l'ho acquistata insieme, ma questa l'ho già bevuta, è stata imbottigliata, allora c'è 0301 18, quindi essendo la data americana l'1 marzo del 2018. Ora siamo a fine luglio, quindi aprile maggio, giugno luglio, quattro mesi, siamo ancora in una condizione diciamo abbastanza buona. Secondo me, tendenzialmente, dopo i tre mesi incomincia a modificarsi la birra e quindi, diciamo, dal momento in cui viene messa in commercio, sicuramente nei primi tre mesi siamo sicuri che è al meglio, nella migliore delle condizioni, così come il maestro birraio vuole che noi beviamo questa birra. Più ci allontaniamo da questa data, sempre per quanto riguarda queste tipologie di birre molto lupolate, più ci allontaniamo, più la birra potrebbe spegnersi, per così dire. In più si aggiunge il fatto che la grande distribuzione organizzata, soprattutto in Italia, non ha praticamente cura per questi prodotti. Quindi un prodotto molto apprezzato negli Stati Uniti viene poi magari rovinato da un viaggio che non viene fatto nel migliore dei modi, dagli Stati Uniti a noi, una conservazione magari non nel migliore dei modi, magari giorni sotto il sole, e vi dico, mi è capitato di vedere, l'avrete visto anche voi, nei supermercati che non c'è cura per questa tipologia di prodotti, ma prima che poi la birra arrivi al supermercato, viene magari mantenuta in centri di stoccaggio e di smestamento, magari anche interi giorni sotto il sole. E l'ho visto con gli occhi di questa faccia, con interi fusti di birre commerciali, di cui non farò il nome, lasciati al sole. Nonostante ci sia l'acciaio e tutto il resto, comunque il sole a maggio o giugno che fosse, il periodo, comunque va a intaccare tanto questo prodotto. Direi che ho già parlato abbastanza, beviamo quindi questa birra, adesso facciamo un'analisi. Il bicchiere in questione è una pinta, è una pinta brandizzata con la birra degli Iron Maiden, se ritrovo questa birra farò un video a riguardo, una birraccia davvero pessima, però mi piaceva in quanto grande fan del gruppo britannico. Allora, partiamo dall'analisi visiva di questa birra, una schiuma molto regolare, abbastanza compatta, sembrerebbe anche abbastanza fine, colore bianco, sì, un bel colore bianco, la birra è di un colore paglierino molto molto carico, con dei ben riflessi abbastanza lucenti e molto molto limpida. Vediamo al naso. Allora, al naso c'è una buona parte fruttata, qua viene fatta questa birra in luna lopulatura in dry hopping. Credo si tratti, non so se perché l'ho letto, comunque si tratti di amarillo come tipologia di lupole, infatti si sente dei lupoli che vanno verso Pompelmo, frutta tropicale comunque in quella direzione. C'è anche comunque un buon profumo, direi di malto e caramello per essere precisi, quindi probabilmente ci aspettiamo un buon equilibrio poi anche in bocca tra la dolcezza dei malti e poi tutta la lupolatura tipica di questo stile. Vediamo se sarà così. Infatti, è una birra molto ben equilibrata, c'è un bellissimo equilibrio tra appunto questa apertura maltata, non eccessivamente maltata, ma comunque abbastanza dolce, abbastanza boccata dei malti e poi dopo tutti i lupoli che arrivano in questa session IPA. Un finale amarogno, abbastanza persistente. Allora, di per sé, secondo me è una buona IPA, è una session IPA, quindi una gradazione alcolica bassa, non bassissima, perché comunque sono 4 gradi e 7, quindi non so neanche se può rientrare nella categoria delle session, comunque nella fascia alta per quanto riguarda l'alcol delle session. Un amarognolo molto persistente, abbastanza persistente. Un corpo abbastanza leggero, non eccessivamente frizzante, una media frizzantezza. Qui la cosa che io mi chiedo è, secondo me è una buona IPA non eccezionale, ci sono IPA molto più buone di questa, secondo me, ma il dubbio che mi sorge è, questa IPA che soprattutto all'estero, e soprattutto per esempio ho controllato poco fa su Rate Beer, ha dei punteggi oltre il 90, quindi una birra che riscontra un grandissimo successo. Risente del fatto che comunque l'importazione peggiora questa birra, è una mia impressione, non so, non riesco davvero a capire questa cosa qui. Sicuramente le condizioni di bevuta cambiano in base a come è stata conservata questa birra, e sicuramente bisognerebbe poterla assaggiare negli Stati Uniti, magari direttamente sul luogo di produzione o comunque in un luogo in cui siamo sicuri che tutta la catena che va dal produttore iniziale, dal birrificio al rivenditore, sia una catena che conservi tutte le caratteristiche per mantenere al meglio questa birra. Non lo so, resto sempre dubbioso su questo aspetto. Mi sembra una buona birra, facili da bere, che si può bere tranquillamente all day, come dice appunto il nome stesso di questa birra, non mi fa però impazzire questa birra. Ho avuto birre americane molto molto più buone, quindi dico, è il fatto, è la GDO che distrugge questa birra o è una birra che forse viene un po' sopravvalutata? Non lo so. Se conoscete già questa birra e vi siete fatti già un'idea della founder, della all day, fatemi sapere cosa ne pensate, perché non sto dicendo che non sia una buona birra, ma non mi sembra così eccezionale come leggo spesso su internet. Appunto, c'è questa questione che, essendo una birra acquistata al supermercato, potrebbe risentire forse di questa cosa. Detto ciò, se la conoscete fatemi sapere, io ho parlato direi abbastanza Scal. esame Maria Ricchia, io ho parlato direi abbastanza